La vita che mi è piacere di più è stato di andare all'acquaparco. Mi sono divertita tantissimo con i miei amici sui scivoli d'acqua. C'erano gli scivoli d'acqua con la discusa velocissima. Durante il percorso viene data la possibilità di avere un contatto con l'animale, di iniziare le nozioni di base per cui stare in sella e alla fine del percorso riuscire ad effettuare anche delle figure di maneggio che comunque richiedono un impegno maggiore. Durante il soggiorno di equitazione junior i ragazzi partecipano all'esclusivo stage. Saranno accompagnati dai docenti FISE. All'interno del bellissimo centro di equitazione di Roccaraso impareranno anche a prendersi cura del cavallo. Grazie a tutti! Grazie per la visione!